Siamo qui a comunicarle il risultato della votazione con la quale il Parlamento in seduta comune con la partecipazione dei delegati regionali in data odierna l'ha eletto Presidente della Repubblica con 665 voti. Ciò risulta dal processo verbale approvato al termine della seduta medettima che le consegno. Pare emozionato Mattarella, è l'unico per il quale ovviamente è la prima volta la Boldrini già aveva svolto questa funzione con Giorgio Napolitano nel palazzo del Quirinale se non ricordo male. Posa per le foto ma non ha voluto il microfono ora però gli arriva lo stesso. Il pensiero va soprattutto anzitutto alla difficoltà e alle speranze dei nostri concittadini, è sufficiente questo.